Invertire la rotta nella gestione dei parchi comunali farà di necessità virtù l'assessorato all'ambiente del Comune di Andria che, come tutti i settori dell'amministrazione cittadina, deve affrontare le restrizioni del piano di rientro depositato proprio ieri sera e che va in discussione nella Commissione Consigliare Bilancio oggi stesso. I parchi comunali della città di Andria erano spesso affidati in custodia ad associazioni cittadine a fronte di questo impegno alla guardiania dei parchi. Alle associazioni erano riconosciuti dei contributi, una spesa complessiva di circa 40.000 euro annui che solo in pochi casi restituiva un vero servizio alla città. Un nuovo approccio alla questione, uno stop ad uno spreco, verrebbe da dire generalizzando se non ci fossero delle isolate eccezioni di buona condotta, rinviene dunque da questa fase di ristrutturazione dei conti del Comune di Andria. Nel 2019 un'apertura e quindi una messa a bando di tutti i parchi cittadini proprio perché ci sia soprattutto, perché questo comporterà un particolare punteggio, una rete specifica da parte delle associazioni che vorranno prendersi cura dei parchi stessi ma soprattutto attraverso la creazione di reti con gli istituti scolastici, le parrocchie e i comitati di quartiere perché ritengo che tutelare l'ambiente significa innanzitutto mettere in campo buone prassi e dinamiche che partano dall'intervento e l'interesse dei bambini stessi, degli studenti. Quindi ci saranno specifici protocolli di intesa tra le associazioni che intenderanno prendere in cura i vari parchi e tutte le scuole interessate perché la mia idea sarebbe l'optimum di individuare in ogni parco distribuito sul territorio andriese delle zone, degli orti didattici specifici dove ogni scuola adiacente al parco stesso potrà attraverso i propri bambini curare il verde, rendersi conto in maniera pratica non soltanto teorica di quanto bello è importante sia curare il creato.